Ok, allora io aspettavo i miei nipotini, perché essendo zia Maranta aspettavo i miei nipotini, dicevo dove sono, dove sono, dove sono e guardo un po' che cosa è arrivato, tutti questi mi sento quasi in soggezione, ma siete bellissimi, mamma mia, ma cosa fate di bello voi? Cantiamo e sogniamo qui questa sera a Saronno. Allora siete un gruppo, come vi chiamate? Essenzia. E che genere di musica fate? Un pop rock. Un pop rock tipo Celine Dion? No. No, no, no. Nilla Pizzi? No. Forse mi sono persa qualche cosa, ma sì dai, spiegatemi voi cosa fate di preciso. Ma facciamo, ci chiamiamo Essenzia innanzitutto perché vogliamo prendere un po' l'essenza di ogni genere musicale e farlo confluire. Essenzia, bellissimo. Dopo spargete anche qualcosa di profumato? Solo stelline magiche. Bellissimo. Ma allora dovreste fare un laboratorio che fa fare la zia Maranta di solito. No, eh? Vabbè, a parte gli scherzi, dai, adesso seriamente raccontateci un po' i vostri impegni, cosa farete stasera. Questa sera faremo il nostro concerto di un'ora e mezza circa, su quel palco, tra l'altro da cui ci stanno chiamando. E niente, poi in realtà, come al solito, stiamo durante l'anno in studio a registrare le nostre canzoni e poi a fare i concerti durante l'anno. Per cui avete già una produzione discografica? Attualmente è tutta autoprodotta. Poi utilizziamo questi eventi tipo questo per... Da quanto tempo c'è il gruppo? Il gruppo dal 2011. E siete in 5, dai, ditemi tutti i vostri nomi. Allora, ripetiamo bene il nome del complesso, del gruppo. Il complesso sta tanto di anni 70. Allora? Allora, noi siamo gli Essenzia, io sono Luca il cantante. Fabrizio, chitarra. Pierluigi, batteria. Matteo, tastiera. Io sono Edoardo e faccio il bassista. I pezzi sono tutti vostri o sono delle cover? Eh, delle cover. Ecco, non mi veniva la parola. In questo concerto facciamo sia pezzi nostri sia cover. Io sono curiosissima di sentirvi. C'è qualche cosa d'altro che volete dire? Tipo i vostri appuntamenti futuri? Assolutamente sì. A settembre siamo a Vignate per una festa che c'è lì. Poi al momento ci chiudiamo in sala di registrazione a registrare. E la sala di registrazione dov'è? A questo punto faccio anche pubblicità al Wild Chicken Studios di Garbagnate Milanese. Così tutte le fan che vogliono aspettarli fuori sono avvertite. Esatto, possono vederci lì. Benissimo, c'è qualcosa d'altro che volete dire? Oppure qualcun altro che vuole dire qualche cosa? No, abbiamo a posto così? Benissimo, allora buon divertimento a voi. Perché comunque stare sul palco vuol dire divertirsi per primi. Speriamo che la gente e i giovani soprattutto vengano numerosi. Ok? Buon lavoro. Grazie. Grazie. Seguiteci su Facebook. Ok, Facebook la pagina? Essenzia. Ok, Essenzia. E va, al momento, Essenzia con la Z, con la S, con la C? Essentia in latino, Essentia. Ok, perfetto, mi sembra tutto chiaro. Grazie. Potete andare a provare, immagino. Ciao ragazzi, grazie.